Buongiorno, benvenuti alla penultima giornata di GetUp, il laboratorio dal basso sull'editoria realizzato grazie all'Arti, l'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione. Il laboratorio è organizzato dall'associazione culturale Riga 42 e vi ricordo che è formata da Carlo Tasusca, Antonietta Rubino, Marianna Carabellese, Giovanni Turi e io, che sono tiziana giudice. Prima di presentare l'ospite vorrei ringraziare i partner che hanno reso possibile e ci hanno appoggiato in questa iniziativa. Il distretto produttivo Puglia Creativa, la Puglia Film Commission, il consiglio regionale della Puglia, l'associazione Laborintus, PUL, Puglia Libre, la Mediateca regionale pugliese che ci ospita, la libreria Zaum che è presente con un banchetto di libri in vendita, libri ovviamente attinenti alle tematiche trattate in questo festival, molti dei quali sono stati consigliati dai nostri ospiti. Detto questo possiamo passare all'argomento della giornata, siamo arrivati all'ultima lettera del nostro acrostico GetUp, siamo quindi alla P di progettazione e abbiamo il piacere di avere qui Marco Cassini che ha fondato, come molti di voi sapranno, due casi editrici nel 94 Minimum Fax, nel 2011 Sur. Il suo curriculum è molto ricco, nel 2002 ha creato l'associazione MF con la quale organizza formazione nell'ambito della scrittura e del lavoro editoriale. ha fondato nel 2004 Minimum Fax Media, che è una casa di produzione audiovisiva, ha fondato librerie Minimum Fax Libri a Roma, a todo modo a Firenze e City Lights Italia a Firenze, giusto? Dal 2013 è organizzatore e direttore artistico del festival La Grande Invasione di Ivrea. Per chiudere è docente anche nel master in editoria, giornalismo e management culturale e la sapienza di Roma. A questo punto posso passare la parola a Marco Cassini. Grazie. Grazie a te. Bene, buongiorno. Ah, io non c'ho bisogno. Loro mi sentono lo stesso. Allora, spengo. Giusto perché si parla di tecnologia, facciamo subito delle figure barbine. Io credo di essere stato invitato qua come basso, perché mi avete detto appena che invece sono qui come P di produzione, di progettazione. Quindi farò finta di aver progettato delle cose nella mia vita, ma in realtà, al di là dell'estrema fantasia, come avete sentito nei nomi che ho scelto per tutte le cose che ho fatto, che si chiamano tutte allo stesso modo. Casa editrice Minimum Fax, produzione Minimum Fax Media, libreria Minimum Fax. Abbiamo avuto sta botta di vita quando abbiamo chiamato MF, l'associazione dei corsi, che adesso piano piano, proprio perché non si capisce che cos'è, inizia a cambiare nome e si chiama da pochi giorni Scuola del Libro, perché appunto è un'associazione con la quale organizziamo corsi, workshop, seminari, cose lunghe, brevi, tutte legate a tutti i vari mestieri del libro, da proprio il lavoro editoriale in sé a singoli aspetti come l'ufficio stampa, la traduzione, l'editing, più corsi di scrittura, di sceneggiatura, di giornalismo, giornalismo culturale, cose che a un certo punto arriveranno anche qua, abbiamo deciso. Quindi appunto non mi aspettavo che veramente ci fossero così tante cose nel mio curriculum, perché quando qualcuno mi chiede un curriculum mi dice io ho fatto solo una cosa nella vita e cioè l'editore, poi tutte queste altre cose intorno, diciamo sono appunto elementi aggiuntivi che però servono a creare tanto un po' di movimento intorno all'attività principale che svolgo, che è quella appunto editoriale, un po' perché anche come ricorda chi c'era ieri sera appunto raccontavamo di come, buongiorno, di come abbiamo noi come tanti altri editori diciamo della nostra dimensione o della tipologia, ossia editori piccoli nati quasi sempre senza risorsa, senza risorse, senza grandi competenze, poi hanno cercato bene o male di arrabbattarsi, di inventarsi una maniera per costruirsi un'identità e l'identità che ci siamo creati principalmente con Minimum Fax perché è la storia più lunga che ho attraversato, quest'anno ha compiuto vent'anni e anche con Sur che invece è più recente, esiste solo da tre anni. Dicevo appunto sono attività collaterali che però per certi versi sono diventati ormai sostanziali nel senso che difficilmente oggi si potrebbe fare editoria dimenticando che c'è tutto il resto, dimenticando che ci sono i festival letterari, che appunto ci sono varie forme di incontri, iniziative, feste, laboratori, anche iniziative se vogliamo più squisitamente commerciali, cioè destinate esclusivamente alla vendita del libro, ma che si cerca insomma di vestire con un abito che ci assomiglia di più. Quindi appunto questo breve sciorinamento delle attività che mi è capitato di fare, che ho fatto, che ho fatto insieme a tutte le persone con cui lavoro e collaboro da anni, in realtà appunto mi è tornata utile proprio per iniziare a parlare dell'argomento di cui vi voglio parlare oggi, ossia come si crea e che cos'è l'identità di un editore, di una casa editrice. Quando dico appunto che, quando ho detto prima che quando mi chiedono il curriculum in realtà, il mio curriculum è brevissimo, nel senso che dico ho fatto l'editore, è perché appunto io pur non avendo un'esperienza in campo editoriale e quindi improvvisandomi insieme alle persone con cui ho costituito un minimo fax, ho imparato sul campo che è sicuramente il modo migliore per imparare, cioè sbaglia e riprova, sbaglia e riprova o come diceva Beckett, fallisci, riprova, fallisci meglio. Forse è la strada più lunga nel senso che se avessi prima fatto dei corsi e partecipato a dei seminari, se fosse esistito un get up nel 1993 avrei potuto imparare delle cose prima e sicuramente fare meno errori, però devo dire personalmente di essere molto affezionato agli errori che abbiamo fatto. errori di tutti i tipi, insomma non sapere bene come si fa un contratto oppure a volte accontentarsi di un accordo verbale perché l'autore ti sta simpatico e poi ti accorgi che però è meglio non commettere questo errore perché quello stesso libro poi lo vedi pubblicato da un altro qualche anno dopo e non puoi opporre nessun pezzo di carta scritto per vantare i tuoi diritti o appunto come abbiamo raccontato ieri, dimenticarsi o meglio ignorare l'esistenza di un codice a barre nei primi libri che abbiamo pubblicato, sbagliare insomma un po' tutto. Quindi quello che poi è il risultato che vedo oggi, ex post, di tutto il lavoro è appunto una sequenza di scelte a volte indovinate, diciamo buona alla prima, insieme mischiate a volte alternate a errori con appunto correzioni successive fino a quello che a noi ovviamente e non necessariamente al mondo sembra poi la forma giusta. L'editoria come tante altre attività che hanno a che fare con una materia un po' impalpabile di argomento culturale in vario genere, in varie forme, non ha sempre delle leggi precise e anzi a volte può essere divertente anche un po' sovvertirle qualora ci fossero. Quindi appunto a volte seguendo dei principi, a volte inventandoceli, quello che alla fine siamo riusciti a costituire è quello che adesso io vedo guardandomi indietro essere il risultato che oggi è il nostro lavoro nel caso di Minimum Fax è un lavoro di vent'anni, nel caso di Sur un lavoro quasi si direbbe appena iniziato perché esiste da soli tre anni. Quindi dicevo guardando tutto questo insieme e solo per questo oltre che appunto per vecamente far pubblicità a qualcosa che faccio vi ho distribuito il catalogo perché come ogni editore in maniera un po' più pomposa e vestendola di metafore o in maniera più banale semplicemente dicendo ecco questo è quello che abbiamo fatto fino adesso sintetizza nel catalogo tutto ciò che è la sua casa editrice e appunto da questo punto di vista la metafora più nota e ricorrente per chi si occupa di editoria è quella usata da Roberto Calasso il fondatore di Adelphi che dice che appunto il catalogo è come un unico grande libro e ogni nuovo libro che costituisce che va ad aggiungersi alla figura è come una nuova pagina di quel libro che è una metafora molto riuscita e molto molto usata. Io a volte insomma ho usato delle metafore un po' più terra terra, a volte ho detto che è tipo una foto di famiglia durante un compleanno o un pranzo di Natale, a volte penso che sia un po' tipo l'album delle figurine in cui è bello riuscire a trovare la figurina che ti mancava per comporre tutta la squadra e sta di fatto che appunto nel catalogo quello che l'editore all'inizio sa o spera, crede, si illude a volte di sapere è quello che un lettore, un libraio, un bibliotecario, un giornalista, un critico letterario vede solo col tempo. Quindi adesso voi avete in mano il catalogo di Sur che oltre ad essere una casa editrice come dicevo che ha solo tre anni di vita, ha anche finora pubblicato un numero relativamente ristretto di titoli, sono ancora meno di 30, però già adesso appunto la foto di famiglia inizia un po' a capirsi. Questa foto pranzo di famiglia io ce l'avevo in mente all'inizio, sapevo più o meno che cosa volevo costruire. Per continuare nella metafora avevo apparecchiato la tavola per questo pranzo di famiglia e mi aspettavo che arrivassero determinati ospiti. Finora nessuno mi ha dato buca, nel senso sono venuti tutti quelli che desideravo. Certo qualcuno in partenza non poteva invitarlo, qualcun altro ho pensato forse aspettiamo l'anno prossimo per arrischiarci a invitare proprio quell'autore lì. Altre volte alcuni che mi sarebbe piaciuto avere accanto a me a tavola erano andati a pranzo da qualche altra parte. Ovviamente per parlare appunto dell'identità dell'editore. Per parlare dell'identità dell'editore chiaramente la prima cosa che ci viene in mente è i libri che pubblica. I libri che pubblica creano il primo modo più immediatamente verificabile, tangibile, intuibile, il primo modo di riconoscere questa identità. Prendiamo appunto il caso di Sur, per trovare qualcosa di analogo, per non parlare necessariamente del mio stesso lavoro, una casa editrice che più volte ho dichiaratamente affermato essere stato un modello per Sur, che è Iperborea, anche perché siamo molto amici con la casa editrice Perborea, ci conosciamo da tanti anni e non c'è possibilità di farci concorrenza, perché loro sono esattamente e diametralmente opposti sul planisferio letterario. È una casa editrice di Milano che esiste da circa 30 anni, fondata da Emilia Lodigiani e ora gestita insieme a lei da suo figlio Pietro Biancardi. Una casa editrice che si è specializzata, mi sembra che abbiano iniziato nell'87, su un progetto, un po' come Sur, dedicato a un'area geografica specifica e quindi a una letteratura proveniente solo e esclusivamente da alcuni determinati paesi che in questo caso sono i paesi del Nord Europa. All'inizio era addirittura più ristretta, era solo la Scandinavia, poi si sono allargati anche all'Olanda, alle Repubbliche Baltiche, man mano che anche la geografia politica del Nord Europa cambiava negli anni passati. Però diciamo molto fortemente identificata, fortemente identificata perché è quasi esclusivamente letteratura, ma ogni tanto hanno pubblicato anche qualche saggio, qualche autobiografia, in qualche caso anche qualche testo teatrale o sceneggiature, molto raramente. Nonostante questo non hanno suddiviso i loro titoli in diverse collane. Si sono immediatamente resi riconoscibili anche dal punto di vista del design, della grafica, partendo dal formato. Io ho girato molte volte in varie città, in vari pezzi d'Italia perché con Pietro siamo amici e abbiamo girato spesso andando in tournée per varie città d'Italia per andare a conoscere dei libbrai e andare un po' a fare i complimenti perché avevano fatto un buon lavoro o a farci conoscere perché magari non conoscevano ancora le nostre case editrici. E girando mi rendevo conto innanzitutto che in ogni singola libreria, tranne quelle un po' più grandi di catena che recentemente hanno adottato come unico criterio quello della suddivisione in ordine alfabetico degli autori, quindi vengono mischiati autori di vari paesi, di varie lingue nel settore diciamo per esempio letteratura straniera o letteratura in generale, in cui addirittura vengono mischiati italiani e stranieri. Altrimenti in altri tipi di librerie dove magari si sceglie di esporre i titoli di una casa editrice tutti insieme proprio per far vedere questa identità e questo progetto. In ogni libreria che abbiamo visitato c'era quello che noi definivamo l'altarino iperborea, cioè tutti i libri messi insieme perché sono belli, sono eleganti, si assomigliano tutti. I lettori di quella casa editrice sono fedeli, si fidano del giudizio dell'editore, della proposta dell'editore e quindi il libraio magari cerca di facilitare la vita al suo lettore facendoli trovare già tutti insieme così non deve impazzire il lettore a cercarseli in giro per tutta la libreria. Questo è un tipico sintomo appunto ex post che l'identità dell'editore ha fatto presa. Dicevo, tra le altre cose che ci è capitato è che ogni singolo incontro che abbiamo fatto, in più abbiamo fatto spesso dei seminari insieme, dei corsi, delle presentazioni congiunte eccetera, quindi in ogni presentazione, in ogni incontro arrivava il momento in cui qualcuno diceva a quelli di Iperborea qualcosa che aveva a che fare col formato. Il formato dei libri Iperborea non so se lo conoscete ma è un po' stretto e lungo, mi pare che sia 10x20, loro anche li usano una metafora molto bella che dice che è il formato del mattone perché appunto ogni singolo libro va a costruire la casa editrice e quel formato o lo amano o lo odiano e non c'è una via di mezzo. Quindi facevamo ogni volta le crocette in ogni viaggio, di quanti vi avevano detto questo formato è bellissimo, meraviglioso, vi fa riconoscere subito eccetera eccetera e tutti quegli altri che dicono sempre il vostro formato è impossibile, non lo riesca a gestire, non riesca ad aprire bene il libro, le righe sono troppo strette eppure quando in più di qualche occasione con Pietro abbiamo parlato dell'identità delle nostre case editrici del nostro progetto, il formato del libro è al secondo posto degli elementi che Iperborea considera caratterizzati, diciamo identitari, cioè appunto primo letteratura nordica, secondo quel formato lì. Quindi questo per dire che l'identità, adesso appunto vi avevo parlato del catalogo di libri che si pubblica, però a volte l'identità può essere data anche da altri aspetti. Per fare un esempio, se vogliamo, estremo, come sapete ci sono stati molto di recente ma anche proprio nel periodo in cui iniziava Minimum Fax intorno al 94, dei casi in cui, proprio ripeto per prendere un esempio che può sembrare paradossale ma che invece può arrivare a diventare identitario, ci sono stati casi editrici, un esempio più recente Newton Compton, l'esempio di quando cominciavamo noi era stampa alternativa, in cui addirittura il prezzo di vendita al pubblico diventa identitario. Quando appunto Minimum Fax iniziava a pubblicare i suoi primi libri, ci fu il boom di quella collana che si chiamava mille lire. Quindi l'identità di quell'editore era, noi vi diamo dei libri che costano pochissimo, che è un po' appunto 15-20 anni dopo quello che ha fatto in tutti gli ultimi anni Newton Compton, mettendo i libri a prima 9,99 però rilegati, cartonati, con un'apparenza di libro diciamo solido, costoso ma che costava come un tascabile. Poi hanno anche lì forzato la mano e hanno iniziato a fare i libri a 2,99, a 1,99 fino a 0,99, di fatto appunto arrivando più o meno a fare quella stessa provocazione che aveva fatto una ventina di anni prima stampa alternativa con i mille lire. Si può arrivare a definire l'identità di un editore addirittura con un colore, pensiamo a Sellerio o pensiamo ai supercoralli in Audi. È chiaro che lì non c'è solo il colore ma ci sono dei contenuti. Mi piacerebbe provare a sentire anche un po' voi così in attesa della prima pausa caffè ci riscuotiamo un attimo. Eh appunto in attesa di cui già sentiamo tutto il bisogno per evitare il ciondolamento di teste verso il basso perché noi andiamo dal basso verso l'alto quindi verso lì dovrebbe essere vietato. Provate a offrire voi qualche esempio di identità di casa editrice o di progetti editoriali di cui è abbastanza facile individuare l'identità. Quali sono i casi più famosi di casa editrice che tu la vedi e dici quello è un libro di quella casa editrice? Adelphi esatto, l'abbiamo nominato poco fa. Al di là dell'aspetto grafico che chiaramente in Adelphi conta molto, che altro possiamo dire dell'identità editoriale di Adelphi? Chi vuole dire qualcosa? La letteratura mitteleuropea, quindi il tentativo anche di dare voce a questi autori dell'area austriaca, tedesca, ciechi, quindi anche in quel caso c'è una forte identità geografica. Qualcun altro vuole dire, sempre ricordandoci che dobbiamo usare il microfono per il pubblico da casa, qualcuno vuole dire qualche altra cosa su Adelphi? Via al televoto. La difficoltà, c'è il fatto che punti ad un pubblico di lettori forte, quindi il target di riferimento. Però hai detto difficoltà, perché hai iniziato dicendo difficoltà? A parte che ne parliamo anche con Falcinelli, alcuni testi Adelphi dichiaratamente sono già dal titolo e dalla scelta di copertina, sono difficili e quindi escludono una parte di pubblico che non è destinato a quelle pubblicazioni. Per dirla, per rivolgerla in positivo, dato che hai usato il verbo escludere, possiamo dire che hai un'idea di letteratura esclusiva. Per premiare i lettori forti. Per premiare i lettori forti. E chi altro vuole dire qualcosa su Adelphi? Abbiamo detto appunto letteratura, intanto l'aspetto esteriore lo conosciamo, è la grafica con quei colori pastello abbastanza riconoscibili, una grafica semplicissima, che peraltro non si è mai rinnovata, o meglio ha continuato con quasi pedisse qua precisione a essere sempre uguale e quindi sempre riconoscibile, un certo tipo di letteratura. Aggiungerei, se nessuno vuole aggiungere dell'altro, che un autore che viene pubblicato da Adelphi viene quasi automaticamente canonizzato, è come santo subito. L'esempio più clamoroso è chiaramente Simenon, autore che veniva pubblicato e venduto in edicola. I gialli come genere, diciamo, deteriore per il grande letterato, grande letterato quale è appunto lo stesso Calasso, editore di Adelphi, eppure improvvisamente Simenon diventa un classico, perché è entrato nel catalogo Adelphi e quindi automaticamente è diventato uno scrittore, con la S maiuscola, che merita di stare nell'Olimpo dei grandi scrittori, mentre prima veniva pubblicato su carta scadente, credo, adesso non me lo ricordo, ma credo in quei libri con l'impaginazione a due colonne, che era la tipica letteratura di consumo. E che cosa ci fa pensare questo? Diteci se vi sembra, o anche se vogliamo trovare qualche altro esempio. A me la prima cosa che fa venire in mente, per restare nel nostro argomento dell'identità dell'editore è che addirittura, paradossalmente, mentre abbiamo detto l'identità dell'editore data dai libri che pubblica, che in questo caso si rovescia esattamente il ruolo. L'identità di uno scrittore può arrivare a cambiare perché è stato inserito in un catalogo anziché in un altro. Prima uscivano gli Oscar Mondadori, quelli lì che scrivevano 50.000 copie vendute, uscivano ogni settimana in edicola, eccetera. Poi diventa un grande scrittore perché è stato pubblicato da quell'editore che normalmente pubblica la letteratura impegnata, seria. Qualcuno vuole fare delle riflessioni su questo argomento? Vi sembra plausibile che lo stesso autore, lo stesso testo, diciamo, cambi nella percezione del lettore o del mercato, anche inteso come entità astratta, perché viene pubblicato da un editorio anziché un altro. Ci sono degli altri casi che vi vengono in mente, di autori che sono passati magari da una casa editrice a un'altra e nel cambiare casa ne è cambiata la percezione. Io non ce l'ho in mente, sto proprio aspettando da voi. Pensavo che sicuramente cambia il modo in cui la casa editrice propone l'autore, perché non tutte le case editrici utilizzano lo stesso metodo di promozione, non tutte hanno valide valide uffici stampa. A me viene in mente una riflessione. Ci sono case editrici, io in questo momento sto guardando un po' di più quelle pugliesi, ci sono case editrici che sul proprio libro pubblicano informazioni sull'autore, sull'illustratore eventuale, sulla storia che troviamo all'interno del libro. Ci sono altre case editrici che invece pretendono, direi io, tra virgolette, che il libro venga acquistato solo sulla base di ciò che è il titolo e di ciò che vedo in copertina. Quindi diciamo che anche questo può fare la differenza. Grazie. Sì, questo è un buon punto. Anche se non vorrei addentrarmi troppo nel lavoro di presentazione esteriore del libro o della comunicazione, semplicemente perché già è stato affrontato da altri che specificamente qui appunto si occupano di design o si sono occupati o di comunicazione, però sicuramente, un po' era quello che dicevo prima, prima magari dicevo che l'identità di un editore è dato anche dal modo di presentarsi, appunto di fare altre attività intorno al libro. Ovviamente rimanendo nell'ambito più squisitamente specifico del lavoro editoriale e quindi appunto come presentare il libro graficamente, come presentarlo al pubblico, come un editore comunica direttamente ai propri lettori sui social network o sul sito della casa editrice o nelle newsletter. immagino che qualcuno di voi sia abbonato a qualche newsletter di qualche casa editrice e vedrà che ovviamente per lo stile che hanno le case editrici, Adelphi, al lettore abbonato della sua newsletter, darà sempre del lei e il minimo fax gli darà sempre del tu. Anche questo è un modo di comunicare il libro, anche se stiamo parlando di altro, cioè di comunicazione in senso più tecnico, è un modo di costituirsi un'identità. Appunto ci sono, diciamo, editori che danno del lei e editori che danno del tu. Appunto ci sono, sempre per raccontare aneddoti anche stupidi dell'esperienza della storia di Minimum fax, chi frequenta il Salone del Libro di Torino sa che tradizionalmente tutti gli anni, per tanti anni c'era stato il venerdì la famosa cena in Audi, a cui sono invitati tutti gli autori, collaboratori, traduttori in Audi, a un certo punto, dal 2004, il venerdì, si è opposta fieramente alla cena in Audi la tradizionale festa di Minimum fax. Che cosa succedeva? Sempre, ed è diventato quasi un luogo comune su cui tutti si divertono, che tutti gli autori in Audi vanno alla cena di in Audi in giacca e cravatta a mangiare finger food e a bere i vini del potere in Audi di Doiani per poter arrivare finalmente alla festa di Minimum fax, ballare sui divani, scatenarsi, togliersi la cravatta e mettersela tipo bandana e ubriacarsi vomitando nel po' appena possibile. Alcuni sono anche caduti nel po' durante una festa di Minimum fax. E per quanto adesso l'abbia detto così per dire una stupidaggia sempre nel tentativo di risvegliarvi, ha a che fare con l'identità di una casa editrice. Quando è nata Sur, io avevo già qualche anno di esperienza, quindi ce l'avevo già un po' più chiara in mente l'idea. Quando è nata Minimum fax, certamente non avevamo chiara l'idea di quale sarebbe stata alla fine l'identità, o meglio, avevamo un'idea dell'identità che volevamo dare, che ora che sono passati vent'anni, guardandoci dietro, vediamo che non è esattamente l'idea che avevamo all'inizio. Perché se anche nell'identità di un editore uno dei punti su cui quasi tutti gli editori cercano di indirizzare i propri sforzi è quello della coerenza, della riconoscibilità, non solo grafica, esteriore, di comunicazione, eccetera, ma anche proprio dei singoli titoli. Per un editore, e appunto a volte in questi famosi giri per librerie che ho fatto per diversi anni, mi è capitato spesso, per fortuna, di sentirlo, ma sono certo che non capita solo a Minimum fax, a Sur, ma alle tante, per fortuna, case editrici che hanno un'identità riconoscibile. Le parole proprio d'amore più belle che puoi sentire da un libraio è quando ti racconta che ci sono dei clienti della sua libreria che entrano in libreria e non chiedono, mi dà quel libro di quell'autore, di quella case editrice, ma dice qual è il nuovo libro? C'è qualcosa di nuovo pubblicato da quella case editrice? significa che attraverso un lavoro di creazione dell'identità, di coerenza del tuo lavoro nella speranza che questa coerenza e quindi questa continuità venga percepita, che i lettori iniziano a fidarsi di te e quindi a voler cercare non un libro qualsiasi, non solo quantomeno a sfogliare i libri in libreria, guardarli sul bancone, guardarli sugli scaffali per cercare qualcosa, ma anche fidarsi di ciò che quella case editrice ti darà perché bene o male quello che ti ha dato finora ti soddisfa o ti incuriosisce, ti fa capire che più o meno da quella case editrice puoi aspettarti certe cose e sicuramente non ti aspetti altre. Ovviamente questo non sempre funziona a meraviglia, non a caso a chiunque di noi come lettori è capitato almeno una volta di dire ah, però questo libro da quell'editore lì non me lo sarei proprio aspettato. E questo che cosa significa? Può significare o che questo principio di coerenza che l'editore rincorre è stato tradito, volontariamente, involontariamente, per errore, per necessità, per motivi X, o anche che l'editore ha pensato di mutare la sua identità, però così come ci ha messo del tempo prima a creare la sua identità, perché quando ha pubblicato il primo libro ancora non sai che cosa seguirà, quando pubblicherà il secondo, il terzo, il quarto, un po' alla volta lo capisci e così quando magari apre una nuova collana, un nuovo filone, un nuovo genere, non è detto che immediatamente venga percepito e magari stona, poi magari si capisce che è parte di un nuovo progetto editoriale. E quindi, giusto sempre per raccontare qualcosa che è successo a noi, per fare meno teoria e un po' più di casi pratici, quando Minimum Fax ha cominciato, come raccontavo ieri sera, è nata da un gruppetto di persone che si erano conosciute al laboratorio di scrittura e quando andavamo in libreria non trovavamo un punto di riferimento in nessuna casa editrice e raramente in dei libri singoli, anche sparsi nei cataloghi di vari editori, che soddisfacesse la nostra voglia di leggere libri che parlassero di scrittura in termini teorici, ossia che raccontasse cosa fanno gli scrittori o che fosse proprio una saggistica sui temi della scrittura, proprio come mestiere, come attività. E quindi, quando noi cominciamo, decidemmo di pubblicare i libri che parlavano di scrittura. Non è che ci siamo inventati il genere intervista o il genere saggio sulla scrittura, però nessuno l'aveva fatto in maniera sistematica e noi lo facciamo iniziando proprio con i primi due libri che abbiamo pubblicato. Uno, come raccontavo ieri, era un libro di Francesco Piccolo, primo libro di Minimum Fax e il primo libro di Francesco Piccolo, quindi un doppio esordio, che era proprio una specie di manualetto molto aneddotico, ricavato da anni di ricerche, di appunti presi da Francesco Piccolo, che c'era proprio questa fissazione su come scrivevano gli scrittori, divisi poi per argomento, costruendo insomma un percorso di lettura. Questo era il primo e l'altro invece, questo si chiamava scrivere on tick, l'altro che si chiamava segreti d'autore era una raccolta di dieci interviste a dieci poeti contemporanei. Non è che proprio miravamo al bestseller evidentemente, però miravamo a immaginare che ci fossero dei lettori come noi che forse cercavano qualcosa del genere e forse come noi non li trovavano. Credo che quasi tutti gli editori o le persone che lavorano in casa editrice che avete ascoltato, che incontrerete, forse anche quelli che sono venuti qui, partiranno sempre nel racconto della creazione del loro progetto dicendo noi volevamo pubblicare quei libri che da lettori non trovavamo, perché effettivamente si parte principalmente da quello. Questo aiuta chiaramente nel almeno idealmente progettare, poi bisogna vedere quanto si riesce a perseguirlo e a ottenerlo appunto nella creazione di un'identità, perché se tu hai fortemente chiaro quello che vorresti, immagini un lettore magari non proprio come te, ma simile a te o degli interessi simili a te, e allora hai ben chiaro che cosa quel lettore vorrebbe, perché di fatto quel lettore sei principalmente tu, quindi lì non puoi sbagliare. E per questo l'identità di un editore, parlo principalmente di editori come noi, cioè tutt'altro discorso, poi lo affronteremo dopo se vogliamo, è chiaramente quello delle grandi case editrici, dei grandi gruppi, per i quali è chiaramente molto più difficile se non impossibile individuare una linea editoriale perché sono per definizione e per volontà generalisti. Come si fa a definire la linea editoriale di Mondadori? Pubblica tutto, dall'autobiografia del calciatore al grandissimo romanzo contemporaneo, ai classici di tutti i tempi, a libri di scienze, libri per bambini, eccetera, eccetera. Ovviamente lì ci aiutano le collane, i filoni, i sottogeneri. Dicevo, siamo partiti quindi da un'idea ben precisa e inizialmente per noi quella era la nostra identità, quello era il nostro progetto. Oggi, bene o male, se uno dice, vuole definire in tre parole che cosa fa minimum facts, a seconda degli interessi, dato che adesso abbiamo anche noi diverse collane, uno può dire, ah, sono quelli che fanno la letteratura americana, oppure chi è più interessato alla narrativa italiana contemporanea e sa che abbiamo una collana ormai da 15 anni di narrativa italiana, per lo più gli autori esordienti, dirà, ah, sono quelli che fanno ricerca sugli autori italiani, che sono un po' i due filoni. Quindi, rispetto a quello che vi ho appena detto, si è molto diluito il progetto iniziale, nel senso che si è andato modificando col tempo. Non lo sapevamo, anche in quest'ambito letterario, anche rimanendo, anche con questi tre filoni che vi ho appena detto, la saggistica letteraria sulla scrittura, tra la collana che tuttora esiste, in cui ogni tanto pubblichiamo almeno un paio di libri l'anno, la narrativa italiana, la narrativa straniera, diciamo che anche qui si può comunque intuire un percorso, bene o male, coerente. Allora, a un certo punto, quando già avevamo pubblicato parecchi libri nella nostra collana che si chiama Filigrana, questa sulla saggistica letteraria, avevamo iniziato a pubblicare la narrativa straniera, non avevamo ancora iniziato a pubblicare la narrativa italiana, a un certo punto pubblichiamo l'autobiografia di Miles Davis. Immagino lo shock di un ipotetico lettore fedele di Minimum Fax nel dire, e che ci azzecca questa autobiografia di Miles Davis qua in mezzo? e mi piacerebbe poter dire, e questo dicevo quando abbiamo cominciato ne sapevamo poco e magari abbiamo fatto anche degli errori o siamo andati per improvvisazione, mi piacerebbe potervi mentire dicendo, no, noi avevamo un progetto di collana sulla musica contemporanea e quindi quello era solo il primo tassello di un'immagine più completa che i lettori dovevano ancora scoprire, in realtà no. Mi era successo che un giorno ero andato al cinema, anzi alla mostra del cinema di Venezia, mi sono seduto e ho trovato sotto la mia sedia una copia in inglese dell'autobiografia di Miles Davis. dato che ho studiato l'Allesuore, sono, diciamo, prima di rovinarmi con i libri, un ragazzo di buona famiglia, ero un ragazzo, adesso sono un signore di mezza età di buona famiglia sono andato alla cassa e ho detto, signorina, qualcuno si è dimenticato questo libro dato che era la mostra del cinema e uno va a vedere sette film al giorno, sono tornato in quella sala due o tre volte nei giorni successivi e il libro stava sempre lì sulla cassa davanti al vetro e lo vedevo e tutte le volte dicevo, che fesso me lo potevo tenere. L'ultimo giorno della festa del cinema, torno lì, vedo ancora il libro e dico, va bene, se nessuno se l'è preso me lo prendo io. Dato che prima di abbandonare la studiavo giurisprudenza mi ricordavo che si dice res derelicta cronulius abetur, cioè una cosa che è stata persa si può considerare di nessuno, un bene di nessuno, quindi sono andato a recuperare il libro. Me lo sono letto, mi è piaciuto un sacco, poi era anche facile da capire in inglese perché una parola su 8 o 9 era FAQ, quindi se sapevi quella più o meno sapevi, riuscivi a capire tutto, anche non sapendole molto di musica. Mi sono andato a informare come si fa in questi casi e ho visto che in effetti esisteva una edizione precedente, l'aveva pubblicata Rizzoli, però non si trovava più in giro. E quindi ha detto a me, un po' il caso fortuito, un po' il fatto che comunque Miles Davis nel Jets è un grande, di Miles Davis ce n'è uno, di autobiografia di Miles Davis ce n'è una, perché una ne ha scritta, mi sembra un peccato che non venga pubblicata in Italia. Decidiamo di pubblicarla, appunto il contratto con Rizzoli era scaduto, non l'avevano rinnovato, il libro era uscito la prima volta negli Stati Uniti più o meno a ridosso della morte di Davis, erano passati 10 anni, 10 anni nei quali appunto il contratto di Rizzoli era scaduto, si avvicinava pure un decennale, io sono fissato con gli anniversari, queste cose qua, che comunque sono un motivo anche in più per promuovere un libro e decidemmo di pubblicarlo. Tanto è vero che non è che facciamo una nuova collana, anche perché era un titolo solitario in mezzo a della saggistica letteraria da una parte e primi libri, primissimi libri che avevamo iniziato a pubblicare di narrativa straniera. Quindi nella nostra collana che si chiama Sotterranei decidiamo di pubblicare questo libro, che sorprendentemente per noi, ma forse giustamente, va molto bene. Insomma eravamo minuscoli, distribuiti malissimo, però organizziamo una serie di concerti in giro per l'Italia, ne facciamo uno bellissimo al Salone del Libro, con allora forse uno dei suoi primi concerti importanti, Fabrizio Bosso che nel frattempo è diventato abbastanza famoso, quello fu l'inizio di una tappa di concerti, mi sembra una ventina di concerti in varie città d'Italia, il libro si vendette tantissimo, almeno tantissimo per noi, magari insomma erano forse duemila copie, però ci sembrava un miracolo, non avevamo mai venduto tanto e quindi a quel punto decidemmo, beh, non è poi alla fine così strano, se vogliamo forse delle giustificazioni ce le siamo create successivamente a posteriori dicendo ma in fondo se noi pubblichiamo David Foster Wallace, se pubblichiamo le interviste ai grandi innovatori della lingua e della letteratura, ci sta pure Miles Davis che a suo modo è stato un innovatore eccetera eccetera, erano tutte scuse, credo ci siamo inventati per giustificare quel libro, però ci è piaciuto lavorarci, abbiamo avuto un riscontro, non stonava nel nostro catalogo e quindi abbiamo iniziato a fare questa ricerca in tutti i cinema in Italia, no, in questa ricerca in maniera più sistematica creando di fatto poi una serie che per i lettori di quel genere è sicuramente significativa, nel senso che poi siamo andati a pescarci tutte le autobiografie e dove non esistevano le autobiografie perché magari i musicisti non avevano scritto un loro libro di memoria e c'erano dei saggi, tra tanti saggi abbiamo scelto quelli che ci sembravano i migliori, più attendibili, più documentati eccetera, abbiamo alla fine costruito una collezione di almeno una ventina di titoli che ripercorrono la carriera, la vita e le scelte di vita e musicali di più o meno quasi tutti i grandi musicisti di quell'area, quindi non so, Dizzi Chillespi, Chet Baker, Duke Ellington, l'ultimo è stato Mingus, insomma li abbiamo un po' inseguiti e siamo riusciti a costruire in quella piccola nicchia qualcosa che a suo modo era sicuramente identitario per sé perché appunto in quella collana di libri di jazz ci sono tutte le grandi figure del jazz e a suo modo identitaria anche per Minimum Facts. Una delle cose che succedono spesso e qui insomma posso chiamare anche a testimonianza uno dei più grandi standisti della storia, degli stand, delle fiere del libro di Minimum Facts è che le fiere del libro sono l'occasione in cui tu vedi in faccia i tuoi lettori e quindi ti rendi conto anche dai loro commenti, da quello che ti chiedono, da come osservano tutta la tua produzione che sta tutta lì davanti, cosa che raramente in libreria succede e ti accorgi di delle cose stranissime. Tu sei convinto magari appunto di aver creato un'identità in una determinata direzione e poi magari vedi il lettore che si avvicina alla collana di cinema per dire, perché abbiamo fatto anche una collana di libri di cinema, ormai anche quella con diversi titoli alle spalle e vedi che la conosce benissimo, diceva questo ce l'ho, questo ce l'ho, ah è uscito quest'altro, così, poi volge lo sguardo altrove e dice, ah ma voi pubblicate anche letteratura americana? Io come? Qua ci conoscono solo per questo. Ovviamente ogni lettore poi si crea il suo percorso di lettura, quindi non è detto che quello che tu hai creduto, quello che credi di aver costruito come identità della tua casa editrice è effettivamente quello che viene percepito dai lettori. Per passare appunto a cose più recenti, diciamo questa esperienza di errori, di interpretazione altrui di quello che facevamo noi o interpretazione nostra di quello che vediamo essere le reazioni dei lettori, chiaramente avendo creato Sur dopo già appunto un accumulo di tutte queste forme di esperienza, ho cercato di farlo in maniera più mirata e quindi come vedete sfogliando il catalogo si intuisce molto più chiaramente il progetto perché abbiamo scelto appunto un'area geografica specifica nonostante ancora più del progetto di Iperboria di cui vi dicevo prima parliamo di un continente che è abbastanza sconfinato, l'America Latina include 25 paesi quindi 25 letterature diverse, è un po' come appunto se uno volesse dire la mia casa editrice è specializzata in letteratura europea, ci sta l'Italia, la Francia, la Germania, quindi l'alteratura europea è qualcosa di molto vasto e allo stesso modo si può dire della letteratura latinoamericana, ci sono chiaramente forse le due letterature più ricche almeno per la lingua spagnola che sono l'argentina e la messicana di cui quindi c'è maggior presenza nel catalogo, però appunto l'idea è anche di andare ad assaggiare altre letterature e con invidia di quelli che mi vedono mandare su Twitter notizie dei miei viaggi, uno dei modi di conoscere la letteratura oltre ovviamente frequentare le biblioteche, studiare online tutto quello che passa per la testa, di voler cercare è andare in dei posti, per esempio al di là direi di Vargasiosa forse, non mi ricordo ma credo che fino a quest'anno non ne sapevo assolutamente nulla della letteratura peruviana, sono stato alla Fiera del Libro di Lima quest'anno, sono tornato come tradizione con un'intera valigia piena di libri e il risultato è che l'anno prossimo ci saranno due autori peruviani nel catalogo sur, perché l'idea è di voler esplorare il più possibile la letteratura di vari paesi, quindi abbiamo pubblicato finora un colombiano, un paio di cubani, un paio di cubano, un paio di cileni, appunto argentini, messicani, adesso pubblicheremo il peruviano, un autore uruguaiano di cui siamo molto fieri, onetti e fino a che qualcuno di noi in casa di dice non si imparerà anche a leggere il portoghese non pubblichiamo ancora autori brasiliani ma prima o poi ci arriveremo, però e questo è un percorso che abbiamo fatto anche all'interno di Minimufax, un altro diciamo quello che in Minimufax è una parte del progetto e che qui è una parte invece cospicua di tutta la produzione di sur è il cosiddetto ripescaggio, cioè appunto riproporre autori che magari in Italia erano già stati tradotti, già pubblicati, già presentati e poi per qualche motivo dimenticati. Per noi aveva sempre avuto un senso di rivalza in più perché mentre pubblicavamo, scoprivamo nuovi autori che puntualmente ci venivano poi sottratti da editori più grandi, diciamo un po' legge del taglione, per ogni giovane autore che scoprivamo e che Enaudi metteva sotto contratto per il libro successivo, noi andavamo a ripescare un autore che Enaudi aveva pubblicato magari 20, 30, 40 anni fa che avevano pensato non più interessante da ripubblicare e a cui noi abbiamo in qualche modo ridato vita e questo l'abbiamo fatto appunto con la collana Minimum Classics a partire dal 2003 per una decina d'anni ormai in sur e questo è gran parte del progetto di sur dove abbiamo pubblicato anche degli autori viventi però principalmente il grosso della produzione di sur, se di grosso si può parlare considerando che finora abbiamo pubblicato ancora poco, è la riscoperta di autori che erano già stati pubblicati. Questo della riscoperta mi permette di tornare appunto sull'argomento di oggi, cioè l'identità, perché proprio tornando al discorso di poco fa, cioè in che modo poi gli editori presentano i propri libri anche nei materiali, nei paratesti del libro stesso o nei comunicati stampa o sul proprio sito eccetera, anche qui chiaramente c'è una differenza tra il modo in cui lo stesso libro magari è stato presentato da un editore e poi viene riproposto da un altro. Prima abbiamo fatto un esempio quasi estremo che era quello di Simenon, però sicuramente anche nel riproporre uno dei titoli che abbiamo potuto pubblicare con Minimum Fax o uno dei titoli che abbiamo pubblicato con sur il fatto stesso che quell'autore venisse riproposto in un altro catalogo magari può dargli un'identità diversa ma anche solo al singolo libro. Non necessariamente morti, anche di autori viventi. Adesso ci ragiono un attimo e mi faccio vedere in mente magari qualche caso specifico su cui ragionare. Gli autori viventi di sur sono veramente pochi e tra l'altro uno di questi, per esempio Cesar Aira, aveva avuto un paio di apparizioni precedenti in Italia. Cesar Aira era uscito un suo libro per Bollati Boringhieri e un paio di libri per Feltrinelli. Ma no, ecco, forse ancora più che Cesar Aira, un esempio per me significativo può essere quello di Riccardo Piglia che è appunto un autore vivente di circa 70 anni, un autore argentino perché il primo libro che ha pubblicato sur di Riccardo Piglia è un libro che era uscito già in Italia era uscito per un editore che si chiama Serra e Riva che tra l'altro in passato aveva già scoperto autori importanti uno fra tutti, che pure ci è capitato di ripubblicare anzi è stato uno degli autori più importanti della storia di Minimum Fax Serra e Riva è stato in Italia il primo editore anche se appunto pochi si ricordano proprio la casa editrice perché ebbe una vita breve e chiuse all'inizio degli anni 80 quindi più di 30 anni fa però per esempio pubblicò, fu il primo editore italiano a pubblicare Carver e pubblicarono Cattedrale anche se pochi lo ricordano poi Cattedrale fu ripubblicato negli Oscar Mondadori e poi scomparve insieme ad altri libri di Carver di racconti che invece erano stati pubblicati da Garzanti aveva avuto il suo momento di gloria negli anni 80 e poi chi lo sa perché nessuno se l'è più filato anche se oggi a molti lettori e anche a molti scrittori sembra un autore imprescindibile c'è stato un momento in cui i suoi libri non erano più pubblicati in Italia e quello fu il momento in cui un po' come ho raccontato per il caso dell'autobiografia di Miles Davis era arrivato Minimum Fax era arrivata l'opportunità di pubblicarlo io che ho conosciuto Carver tardivamente me ne ero subito innamorato avevo letto i suoi libri mi erano piaciuti tantissimo e con Minimum Fax eravamo riusciti a pubblicare due suoi libri di poesia e poi abbiamo fatto presente all'agente letterario da cui avevamo comprato questi libri di poesia che nell'eventualità dato che questi libri non si trovavano più in giro Garzanti e Mondatori non volessero rinnovare i loro contratti ce lo facessero sapere perché noi eravamo interessati eravamo così interessati di aver pubblicato addirittura i suoi libri di poesia sapendo che la poesia in Italia per una legge non scritta ma come in quasi tutto il mondo in realtà si vende molto poco o quasi per niente e quindi così fu che effettivamente riuscimmo a pubblicare Carver comprando i diritti anche di quei libri che poi per Minimum Fax è stato come dicevo un autore fondamentale perché è stato anche il nostro primo best seller abbiamo venduto molte migliaia di copie di ciascun suo libro complessivamente abbiamo pubblicato 12 libri e fra tutti adesso non conosco i numeri precisi ma credo che fra tutti i vari libri abbiamo venduto circa 150.000 copie messi tutti quanti insieme al punto che c'è successa la stessa cosa sono passati anche i dieci anni dei nostri contratti e quando sono scaduti i nostri noi ovviamente avremmo voluto rinnovarli ma è arrivato in Audi e ha e ha comprato adesso i diritti quindi adesso i libri di di Carver anche se per molti lettori sono ancora legati nell'immaginario a Minimum Fax già da qualche anno ormai sono di 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 Enaudi peraltro potrei dire a questo proposito giusto per fare un po' di polemica gratuita che è successa una cosa strana devo dire ed è stata sintetizzata qualche giorno fa da Martina Testa che appunto è stato direttore editoriale di Minimum Fax anche negli anni in cui pubblicavamo Carver ha scritto su Facebook qualche giorno fa e cioè ci si può rendere conto che diversamente da tutto quello che abbiamo appena detto e cioè che un autore diciamo può cambiare fisionomia o modo di essere interpretato o recepito a causa della o sì diciamo a causa della identità dell'editore che lo pubblica è successa una cosa piuttosto strana nel senso che ovviamente Enaudi è forse l'editore sicuramente l'editore di letteratura più importante che abbiamo in Italia forse l'editore più importante in assoluto è anche uno degli editori con una delle più forti identità che ci siano con una grande storia una grande tradizione una grandissima presenza sul mercato curiosamente se adesso entrate in libreria e vedete le edizioni tascabili dei libri di Enaudi non assomigliano molto ai libri Enaudi e paradossalmente assomiglia cioè Enaudi ha cercato di farli assomigliare ai libri di Minimum Fax che è una cosa piuttosto strana per certi versi ci potrebbe anche inorgogliere per altri ci fa un po' incazzare diciamo ma non perché ci abbiano come dire imitato perché non assomigliano graficamente ai libri di Enaudi ai libri di Minimum Fax però i primi due titoli hanno scelto come prefatori Valeria Parrella e Francesco Piccolo che sono due autori che hanno pubblicato anche per Minimum Fax hanno scelto per la prima volta peraltro non è un loro tradizionale illustratore di affidare le illustrazioni a Shout che è lo stesso illustratore qui ci sono dei libri vedo l'ultimo che ha fatto per Minimum Fax è questo di Paolo Cognetti che è questo a pesca nelle pozze più profonde l'illustrazione è di Alessandro Gottardo che usa anche il suo nome d'arte Shout curiosamente quindi Enaudi ha deciso di usare degli autori che almeno per un periodo sono anche breve sono stati in qualche modo identificati oltre che scoperti perché tanto Francesco Piccolo quanto Pataria Parrella hanno esordito con Minimum Fax ora entrambi pubblicano con Enaudi l'illustratore che hanno scelto è un illustratore abbastanza anche se insomma negli anni ha iniziato a collaborare con moltissime case editrici però la collana Nickel è in cui alterniamo vari illustratori ha almeno direi una credo dozzina o quindicina di titoli illustrati da Shout e hanno fatto un'altra cosa che Enaudi non fa mai o meglio sì non è vero che non fa mai non voglio essere scorretto però fa raramente e lo fa però solo in una collana Enaudi in una collana che si collana capolavoro che si chiama letture pubblica i libri mettendo dell'autore solo il cognome in quella collana è così Cortázar Animali Animalia non mi ricordo adesso ci sono mille capolavori però ho detto Cortázar giusto per continuare a che insomma hanno pubblicato Onetti tanto per dire tutti gli autori che ci contendiamo però insomma hanno in quella collana solo il cognome nei loro libri tascabili mettono normalmente nome e cognome Carver hanno deciso di mettere solo il cognome non voglio dire perché anche Minimum Fax aveva deciso di fare questa stessa scelta dedicando un'intera collana a Carver e mettendo solo il cognome ma comunque diciamo che una serie di coincidenze hanno fatto sì che l'autore che per dieci anni è stato l'autore stella nel catalogo di Minimum Fax con l'illustratore che ha pubblicato non so se per la prima volta ma comunque ha iniziato nei suoi primi anni da illustratore almeno di illustratore di libri in Italia perché collaborava già a New Yorker ad altre riviste all'estero però come copertine di libri credo che abbia esordito con Minimum Fax appunto Alessandro Gottardo Shout con delle prefazioni di autori che hanno esordito con Minimum Fax con questa idea di mettere solo il cognome in copertina come ha fatto Minimum Fax appunto come sintetizzava alla fine Martina Testa qualche giorno fa nel suo post su Facebook evidentemente Enaudi sta cercando di dire che non c'è non c'è un modo migliore di pubblicare quest'autore rispetto al modo in cui l'ha pubblicato Minimum Fax che è un'interpretazione diciamo estensiva sicuramente però effettivamente rispetto a quello che abbiamo detto prima di come la percezione di un autore può cambiare a seconda di dove viene collocato perché l'identità dell'editore contribuisce a modificare la nostra percezione anche dell'autore nel modo in cui viene presentato o nel contesto in cui viene presentato curiosamente Enaudi sembra quasi essersi forzata perché comunque alcuni canoni tipicamente Enaudiani li ha un po' trascurati o tralasciati per questa almeno per questa occasione ditemi quando si fa l'ora della pausa caffè ok ero partito però questa era tutta una digressione questa su Carver perché ero partito da Riccardo Piglia Riccardo Piglia è un autore vivente considerato credo ci metto sempre delle dubitative perché sennò sembra che me la tiro credo che sia considerato uno dei più importanti scrittori viventi argentini uno dei nomi ricorrenti nei primi viaggi che ho fatto appunto vi dicevo uno dei modi di conoscere una letteratura una cultura e ovviamente andare a quel paese diciamo ho fatto nell'epoca in cui stavo costruendo il catalogo sur sono andato due volte consecutivamente alla fiera del libro di Buenos Aires e incontrando scrittori editori altre persone dei traduttori editori stranieri sia rispetto all'Italia che rispetto all'Argentina insomma di altri paesi che però pubblicavano già letteratura argentina sudamericana era uno dei nomi ricorrenti quando chiedevo consiglio ma secondo voi chi dovrei pubblicare quali sono gli autori più importanti e oltre al fatto che mi sembrava veramente strano che diciamo tra gli autori viventi tutti me ne citavano tre o quattro o anche dei singoli titoli e questi autori non li vedevo pubblicati in Italia appunto uno era Cesar Aira uno era Alan Pauls uno era Fogwill uno era appunto Riccardo Piglia di Riccardo Piglia qualcosa era già stato pubblicato da Feltrinelli in Italia ma quello che tutti mi dicevano essere il suo libro più importante L'Espirazione Artificiale appunto era stato pubblicato ero partito da lì da questo editore Serra e Riva di Milano negli anni 80 però stranamente Feltrinelli che negli anni credo fine anni 90 aveva iniziato a pubblicare i libri di Riccardo Piglia stranamente questo che è considerato un libro quasi fondante della letteratura contemporanea argentina non era stato pubblicato effettivamente allora mi incuriosì e iniziai a leggerlo effettivamente anche perché non è che sono proprio un mago dello spagnolo avevo trovato delle difficoltà a leggerlo tant'è vero che appunto anche dei miei amici argentini mi dicevano ma ti sta leggendo Riccardo Piglia in spagnolo e come fai perché effettivamente non è un libro particolarmente facile però nel approfondire la conoscenza di questo testo di quest'autore nel frattempo avevo scoperto che mentre quasi tutti gli scrittori argentini negli anni della dittatura avevano dovuto espatriare autoesiliarsi e andare via per poter pubblicare all'estero principalmente in spagna libri che fossero dichiarati anche narrativa non necessariamente saggistica impegnata diciamo politicamente ma anche narrativa attraverso cui costruire una critica al sistema politico alla dittatura vigente in quegli anni in Argentina curiosamente Riccardo Piglia aveva continuato a vivere lì e era riuscito con questo libro a eludere diciamo le maglie della censura pubblicando un libro che è interamente leggibile sotto la lente della metafora di una critica alla dittatura senza esserlo ed è infatti considerato l'unico grande romanzo scritto in Argentina e pubblicato in Argentina durante gli anni della dittatura tanto che appunto poi quando ho deciso di pubblicarlo ho chiesto all'autore di scrivere una prefazione per la nostra edizione italiana in cui racconta anche un po' il clima che c'era in quegli anni e come appunto lui era riuscito a pubblicare questo libro fortemente critico della dittatura militare argentina pur continuando a vivere lì e riuscendo anche a sopravvivere diciamo alla pubblicazione del suo libro ecco questo era uno dei casi in cui io non riuscivo a capire perché un editore anche importante tra l'altro uno degli editori che almeno storicamente ha legato il suo nome alla grande letteratura latinoamericana perché appunto il primo editore in Italia a pubblicare Garzia Marquez Vargasiosa Onetti tutti questi grandi autori è stato Feltrinelli un editore che ha deciso comunque di pubblicare i libri di quest'autore curiosamente misteriosamente non riusciva a capire perché aveva tralasciato di pubblicare quello che è considerato il suo romanzo principale e questo però per certi versi è stata una piccola fortuna per Sur perché ha potuto pubblicarlo peraltro poi questo mi ha dato modo di conoscere l'autore e quindi di proseguire il percorso adesso abbiamo pubblicato un altro suo libro l'anno prossimo pubblicheremo un altro ancora l'identità quindi dello scrittore in che modo adesso stiamo parlando di un autore che non è proprio super venduto o nemmeno come dire conosciuto come può essere Carver però in che modo anche l'identità dell'autore in qualche modo si può modificare a seconda del catalogo in cui è posizionato Riccardo Piglia appunto forse non è un caso così facile da raccontare come quello di Carver che è un nome sicuramente più noto però da alcuni critici da alcuni lettori anche da alcuni scrittori è stato salutato ripeto anche magari in circoli ristretti la pubblicazione di Respirazione Artificiale che è appunto questo romanzo di Riccardo Piglia come un anche piccolo però evento significativo per il quale appunto tutti si sono chiesti come mai quel libro venisse trascurato da un altro editore io non so se ha a che fare con l'identità della casa editrice forse c'è appunto è un libro che anche in Argentina viene considerato un libro per scrittori perché poi molti scrittori ci ritrovano come dire la una anche forse una metafora proprio del romanzo stesso una storia che si costruisce ma si decostruisce da sola mentre viene raccontata e ci sono delle parti secondo me godibilissime anche diciamo letterariamente anche se piuttosto difficili in cui c'è un racconto di terzo livello qualcuno che racconta una storia a qualcuno che sta raccontando una storia a qualcun altro che sta raccontando un'altra storia quindi appunto è sicuramente non facile come lettura mi sono chiesto appunto se avesse a che fare magari non tanto con l'identità ma anche una questione veramente di mercato cioè forse un libro più difficile tra l'altro anche se i numeri generalmente di sur insomma essendo una casa editrice abbastanza di nicchia non sono altissimi però è il terzo libro più venduto di sur quindi seppure appunto con numeri piccoli ha comunque incontrato un suo pubblico e quindi forse ha solo a che vedere col mercato perché magari Feltrinelli l'ha considerato un libro troppo difficile o un libro troppo vecchio perché parla di un'altra epoca anche se credo si possa leggere tranquillamente adesso sur è in qualche modo un esempio di come si possa riuscire a creare anche se appunto non è così ancora facilmente percepibile perché è un percorso ancora ai suoi primi passi di come paradossalmente si possa riuscire a creare un'identità andando a recuperare cose che altri hanno perso per strada quindi diciamo se vogliamo si può usare la metafora del riuso anche dell'ecologia della letteratura andare a ripescare cose che già esistevano che già sono state tradotte che già sono state pubblicate che già sono state lette che già sono state ricensite che già sono state vendute recepite in un altro periodo in un altro catalogo da un altro editore e tutti questi pezzi che prima erano un po' sparsi li abbiamo rimessi insieme creando qualcosa di nuovo quindi tanto nel prendere autori che come vi dicevo nella loro terra sono considerati i maggiori scrittori viventi o i grandi importanti classici come appunto Onetti Ernesto Sabato Cortazar Cortazar ultimamente anche perché quest'anno ricorreva il centenario della sua nascita è stato al centro di una grande riscoperta anche qui curiosamente Enaudi che è l'editore tradizionale di Cortazar già da tantissimo tempo dagli anni 60 da quando Calvino lavorava lì e ogni tanto veniva imbeccato dalla moglie che era sudamericana su dei titoli che quindi poi lui proponeva a Enaudi Cortazar è stato pubblicato continuativamente per 50 anni da Enaudi ma di tanto in tanto si perdeva per strada qualcosa si è perso per strada un certo Lucas che è un libro che molti considerano diciamo sicuramente non il libro più importante di Cortazar perché quello rimane indubitabilmente Rayuela o Il gioco del mondo come è stato tralotto in italiano però comunque un libro significativo della sua produzione noi pubblicheremo l'anno prossimo componibile 62 che è il seguito del gioco del mondo stiamo pubblicando tutte le lettere di Cortazar pubblicheremo il racconto più famoso di Cortazar che si chiama Il perseguitor che peraltro per tornare al jazz di cui sopra è un libro ispirato alla figura di Charlie Parker da cui peraltro a cui peraltro si è liberamente ispirato Clint Eastwood quando fece il film su Charlie Parker appunto e appunto sono libri a loro modo ciascuno a loro modo importanti che vengono tralasciati quindi appunto si può anche senza proporre qualcosa di completamente nuovo anzi dichiaratamente recuperato ripescato riuscire a creare un'identità quindi l'identità non deve essere per forza ricercata in qualcosa di assolutamente nuovo certo è che appunto l'identità dell'editore va o costantemente alimentata o anche come vi ho raccontato prima per il caso di cui Minimum Fax ogni tanto ha preso delle deviazioni che poi sono diventati degli altri percorsi all'interno del suo catalogo quindi dicevo può essere o alimentata con una strettissima coerenza su un unico filone o anche ampliata in modo che un'identità sia creata da tante piccole identità che però in qualche modo non confliggono ma creano un unico che possa essere percepito in qualche modo come coerente dal lettore e quindi appunto alla fine di tutto questo discorso e per avviarci al caffè direi che appunto l'ideale sogno dell'editore che vi dicevo è quello di venire a sapere da un libraio che ci sono dei lettori che aspettano il nuovo libro di Sur il nuovo libro di Minimum Fax come il nuovo libro di Marcosi Marcos o il nuovo libro di Caratteri Mobili l'idea è far sì quale che sia il nostro referente appunto il singolo lettore il mercato inteso come entità astratta le librerie un critico letterario che ci segue eccetera eccetera innanzitutto sappia cosa si può aspettare da noi e quindi non venga sorpreso in maniera negativa da qualcosa che secondo lui stride in quella che almeno era l'immagine che lui si era creato di quel catalogo di quel progetto editoriale e al punto da aspettarsi questo poi succede più o meno in tanti altri settori sappiamo cosa ci possiamo aspettare da quell'etichetta discografica sappiamo che in quel cinema dove ci piace andare non faranno il film di Boldi e De Sica oppure faranno il film di Boldi e De Sica e ci andiamo tutti i Natali a vederlo però insomma in quel teatro fanno quel tipo di produzioni quindi l'idea appunto di progetto culturale di identità culturale è assimilabile appunto a tutti gli altri settori e l'idea è che appunto il lettore nel nostro caso lo spettatore eccetera si fidi talmente tanto di quel catalogo che quasi al buio dica boh non ho idea di chi sia questo qui mi sono letto quello che dice la quarta di copertina il risvolto però per me basta il fatto che l'abbia pubblicato quell'editore perché possa almeno fidarmi poi ovviamente ogni libro è una storia a sé può deludere può appassionare o meno però insomma anche nella delusione c'è chi diciamo riesce a percepire il il percorso dell'editore cosa che appunto come vi dicevo all'inizio dato che questo poi è anche un po' il tema dell'incontro di oggi nella nella fase di di progettazione l'editore può solo sperare che venga percepito alla fine noi non abbiamo idea quando facciamo un libro che cosa ne penseranno i nostri lettori però una delle domande che spesso ci facciamo quando in casa editrice nelle riunioni redazionali si discute su un libro se vogliamo pubblicarlo o meno è che cosa penserà il lettore della nostra casa editrice se pubblicheremo questo libro non significa come dire rivolgersi al mercato ossia pubblichiamo qualcosa che piacerà a chiunque no l'idea è avendo noi in mente anche se ce lo siamo solo immaginato chi è il nostro lettore immaginiamoci un ipotetico lettore della nostra casa editrice che fin qui ci ha seguito passo dopo passo e sa quindi chi siamo cosa facciamo lo disorienterà questa prossima scelta o in qualche modo diciamo gli darà soddisfazione ripeto questo non significa andare incontro al mercato pubblicare qualcosa solo per un senso per una idea commerciale nel senso deteriore del termine ma appunto mettersi nei panni del nostro lettore anche perché e chiudere quindi il cerchio come vi dicevo all'inizio quasi tutti gli editori che costruiscono un progetto principalmente si pongono come lettori io da lettore vorrei poter trovare questo libro non lo trovo quindi lo pubblico io se ci poniamo nella veste del nostro lettore probabilmente il nostro lettore ci assomiglierà o noi assomiglieremo al nostro lettore pausa grazie